Una sorpresa a Malika Iann. Facciamo entrare Luca Seppe con la chitarra, tanto che ci frega che andiamo due minuti in ritardo con... Oh, possiamo, sì. Sì, guarda, tanto male che va. Buonasera. Buonasera, Luca. Salve, mi trovo per caso, prendo la chitarra. Lui è un posteggiatore abusivo. Però la Cassazione ha visto che dà ragione a loro? A chi? Ai posteggiatori abusivi. Eh certo, infatti guarda come si veste da quando... Proprio è così, così. Chiedo scusa alla TV di Kiss Kiss se non mi sono riuscito a preparare meglio, dinanzi a cotanta bellezza. Non sai cosa ha detto Malika? Ha detto possiamo sforare due minuti? Va, male che va si incazza il direttore responsabile. Ma non si incazza anche perché tu lo sai che dopo tocca a noi. Malika, sarei io quindi. Ah, è vero, è lui. Non mi incazzo, vai, giuro. No, ma cosa vuoi? Tutto è improvvisato. A Malika, dalle origini, tu permetti, insomma, siccome le tue canzoni sono straordinarie, anche straordinariamente semplici, ma io sono un pessimo chitarrista, potremmo fare qualcosa del tipo... Ok, ok. Mi siedo in bacio a te, va, vai. In bacio a te, è tutto live. As far as I can see, it's too much freedom for me, that's the way I like it. Ah, ah, if she's so happy to be, it's never enough for me, that's the way I like it. Ah, 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 it tastes a minute, without a reverie, that's the way to like it. Ah, 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 no commodity, even a capita, that's the way I like it. Oh, oh, keep on feeling better. Love is insane, really doesn't matter. Wake me up and say, da 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 da, da da da. Ah, 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 da 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 da, da da da. Wow, secondo me non è possibile che la live era un disco ragazzi, giuro non è possibile. A questo punto, visto che tu mi hai invitato e a Napoli si dice, care malica, ho invitato, ho invitato, potrei invitarti giusto a cantarmi un pezzettino della canzone che preferisco del tuo repertorio, ed è quella che faceva più o meno così. Tra un po' se non le musa ce ne vediamo. Sì, facciamo precisi. Mamma mia ragazzi. Ma ti conosci a colpa di un'estate come non mai. Aspetta, andiamoci d'accordo. Sì, sono io che effettivamente mi devo ricordare a colpa. Allora, potremmo sì. Hai detto, hai ragione, ma l'emozione è tanta. Quindi una cosa... Ritornello, che così non sforriamo troppo. È stato e muoio un po' Aspetto che ritorni in illusione Di un'estate che non so Quando arriva e quando parti Se riparte È qualcosa del genere. Va bene. Per essere improvvisato. Bravissimo Luca, grazie. Chiuderei così. Questo è il disco di Malikaian. Stasera c'è il concerto all'Agusteo. Chiudo con una frase e lasciarvi ai tappi. Che Dio benedica Malikaian. Che Dio benedica la tua voce. Grazie Malikaian. Che Dio ti benedica. Io chiudo più volgare. Che figa. Ci mancava...